Ciao a tutti, benvenuti nella seconda parte del vlog, se non avete ancora visto la prima cliccate qua come potete ben vedere siamo già rientrati a Bologna, siamo già a lavoro ringraziamo tutti i ragazzi che sono venuti a parenti e a vedersi e soprattutto Jonathan e Manolo che hanno organizzato l'evento, sono stati molto carini ad ospitarci e tutto il resto, quindi ci vediamo presto, inizia la seconda parte, ciao Ciao a tutti Ciao a tutti ha spaccato un po' ma spaccato comunque mettete mi piace al video, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale qua sotto, iscrivetevi ciao a tutti qui il mondo conquista tutti i posti ciao a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.